L'insieme degli scandali che hanno riguardato la regione Puglia personalmente per me hanno rappresentato un grande dolore perché hanno sporcato l'immagine di questa regione, di questo territorio, si è abusata della metafora della primavera pugliese e abbiamo avuto tutti la sensazione fisica di una gelata. Nichi Vendola si toglie qualche sassolino dalla scarpa, con il suo eloquio elegante e forbito lancia duri strali contro la politica di Emiliano. Si è abusato della metafora della primavera pugliese, ha detto, ma abbiamo avuto tutti la sensazione fisica di una gelata. Il riferimento è alle inchieste, ma inescare la miccia è anche il rimpastino in giunta. Accanto a lui l'ex assessora all'ambiente, Maria Grazia Maraschio, licenziata da Emiliano con un messaggino che dica l'ex presidente. È stata l'agnello sacrificale, tuona ancora Vendola che rincara la dose. Chi pensa di sciogliere i nodi della politica con un po' di fiction o sceneggiata se li ritroverà più aggravati? L'azzeramento non è un fatto aritmetico, noi possiamo cambiare solo due, tre, quattro. L'azzeramento è un fatto di assunzione di responsabilità. Di fronte alle sequele di scandali che vi sono stati in regione Puglia, bisognava dire che noi lo affrontiamo con serietà questo problema, non con una piccola fiction, ma con serietà, anche chiedendo scusa ai pugliesi. Perché la primavera pugliese è stata una cosa seria che ha dato speranza e ha prodotto un cambiamento importante. E bisogna essere all'altezza anche dei problemi e degli inciampi e reagire con serietà. Anna Grazia Maraschio è stata l'agnello sacrificale di questa operazione burletta. La sua competenza, la sua passione, la sua moralità sono per noi motivo di orgoglio e sarà il nostro candidato, insieme a Fedele Canerozzi, i nostri candidati alle elezioni europee del prossimo giugno. Ma oggi è stata anche la giornata dell'appoggio incondizionato al candidato sindaco Michele Laforgia. Ogni volta che sarò al fianco di Michele, sarò accanto alla parte più bella della storia di Bari, ha detto. La ministra italiana conferma il proprio appoggio all'avvocato Michele Laforgia, un simbolo delle battaglie di giustizia e di legalità nella città di Bari. Un uomo impegnato da sempre con la società civile, con l'associazionismo, dalla parte della buona politica. E in tema di lavoro alla vigilia del primo maggio il penalista annuncia un impegno nel caso in cui le urne dovessero incoronare lo sindaco. Ho fatto la proposta che anche il comune di Bari, come ha già fatto il comune di Firenze, stabilisca con delibera e quindi poi faccia applicare agli uffici il salario minimo garantito per tutti i bandi e gli appalti pubblici che riguardano il comune.